Si terrà mercoledì 7 giugno alle ore 18 al Teatro Sociale di Como il concerto per celebrare i 259 anni della società dei palchettisti. 259 anni sarebbero tanti ma ci sentiamo ancora giorni, vogliamo mantenere un teatro giovane aperto alla città, questo è il nostro compito di palchettisti. Protagonisti del concerto che avrà luogo nella Sala Bianca del Teatro Sociale di Como saranno gli allievi del Conservatorio Giuseppe Verdi che suoneranno opere di Ravelle e Debussy. Il concerto sarà preceduto da una presentazione a cura degli stessi allievi delle opere che verranno poi eseguite. Di Debussy la Dance Sacre Dance Profane per arpa e archi, il quartetto d'archi di Debussy e in conclusione del concerto l'introduzione allegro di Maurice Ravelle per arpa, due fiati e quartetto d'archi. I biglietti sono acquistabili online o a partire dal 6 giugno presso la biglietteria del teatro. Hanno un costo di 10 euro e il ricavato andrà al conservatorio per incentivarne la funzione di formazione. Con questo evento il teatro sociale dimostra ancora una volta di voler essere punto di riferimento per la cittadinanza, ma non solo. Il teatro vuole essere punto di riferimento per la città e, come io mi occupo di sostenibilità al di fuori del teatro, ho cercato di portare questi temi anche all'interno del teatro. Con i palchettisti abbiamo anche fatto delle operazioni per cui hanno partecipato al PNRR per il risparmio energetico, per cambiare gli infissi e alcune altre cose. Per cui c'è un impegno da parte del teatro verso accompagnare la cittadinanza anche verso questi temi così necessari oggi.